Prima di entrare ad analizzare ciò che prevede il mio ordine del giorno numero 137, preme in realtà fare un'analisi di ciò che in verità prevede tutto questo Decreto Regge, a mio dire illegitamente firmato, aborigine dall'attuale Presidente della Repubblica, che ovviamente oggi ha gatte più importanti da pelare che la firma di un decreto legge. Questo decreto, soprannominato da noi, ma anche dai vari comitatini, come vengono chiamati dal Presidente del Consiglio, Sfascia Italia, sembra avere l'opposizione, almeno a parole, di anche alcuni consigli regionali. Infatti, po' più oggi, parlamentari della Regione Abruzzo hanno ricevuto un'e-mail dall'assessore all'ambiente della Regione Abruzzo, come detto, avente ad oggetto azioni urgenti avverso il Decreto Legge numero 133, ovvero con una risoluzione approvata dalla stessa Regione si esprimeva la volontà che il Presidente della Giunta regionale si attivino per mettere in atto ogni azione utile a sostenere in sede di conversione del Decreto Legge la tutela delle prerogative regionali. Qualora non venisse accolta la posiente richiesta, si chiede di impugnare per incostituzionalità la legge di conversione del succitato decreto nelle parti detenute incostituzionali, ovvero attivare la proposta di un referendum abrogativo in concorso con le altre Regioni. Ciò avviene anche per altre Regioni, però vi è da dire che la Regione Abruzzo, andata al voto a maggio di quest'anno, è una Regione che ha la stessa maggioranza di questo Governo e di questo Parlamento che ha portato avanti sia il Decreto Legge sia la conversione. Ora, ovviamente, noi non possiamo conoscere la sincerità delle parole dell'attuale Assessore all'Ambiente, nonché del Presidente della Regione Abruzzo, anzi, personalmente, dubito molto sulla sincerità delle parole di alcuni esponenti politici. Ma, ad ogni modo, anche il fatto che essi vogliano e debbano, almeno pubblicamente, mettere le mani avanti contro un provvedimento del genere, dovrebbe far capire quanto in realtà la popolazione tutta sia preoccupata dalla petrolizzazione che sta avvenendo, anche grazie a questo Decreto in Italia, che avverrà nei prossimi anni, soprattutto nella nostra Regione. D'altro canto, l'anno scorso vi è stata una imponente manifestazione di varie associazioni ambientaliste, proprio contro una installazione petrolifera denominata Ombrina II, davanti alle coste abruzzesi, in primi stiatine. Ebbene, questo decreto, in realtà, fa un incredibile e in debito favore alle cosiddette lobby del petrolio e del gas. E ci domandiamo cosa ne avrà in cambio il Governo o i partiti che hanno accettato queste pressioni o che hanno fatto leggi a favore di queste lobby petrolifere. Ad ogni modo, rientrando nel mio ordine del giorno, che in realtà riguarda una materia diversa, ovvero riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Noi, come Movimento 5 Stelle, ci teniamo abbastanza a questo tema, già che siamo pervicacemente contrarie al continuo consumo di suolo, consumo di suolo che in realtà va a pregiudicare anche le problematiche inerenti alla tutela del patrimonio non solo artistico, ma soprattutto idrogeologico dell'Italia. E, come abbiamo visto in queste ultime settimane, con le recenti alluvioni, ne abbiamo una presenza costante, soprattutto durante l'autunno e l'inverno nel nostro Paese. Ebbene, con questo ordine del giorno, noi impegniamo il Governo ad ammettere per gli interventi di ristrutturazione di edilizia attuati anche in aree industriali dismesse la richiesta di permesso di effettuare ristrutturazioni di edifici esistenti al fine dell'utilizzo degli stessi, previa deliberazione del Consiglio Comunale, che ne attesta l'interesse pubblico e previa consultazione popolare vincolante.